Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, ovvero ritrovati. Oggi un appuntamento davvero bellissimo e molto particolare perché un po' di tempo fa stavo pensando appunto a girare questo video in cui in pratica esponevo i miei triggers preferiti e oggi questo video diventa una realtà perché effettivamente mi sembrava un'idea piuttosto carina e quindi mi sono detto perché no e quindi oggi andremo ad esplorare cinque dei miei triggers preferiti. Sì scusate se guardo in basso è che ce li ho tutti lì in fila pronti e quindi ecco iniziamo subito. Il primo oggetto che volevo mostrarvi è questa boccetta di profumo eccola qui e mi piace molto perché si può fare sia un po' di tapping che un po' di liquid sounds quindi è molto interessante e questi due triggers sono due dei miei preferiti quindi iniziamo subito con un po' di tapping. Sì scusate Grazie Sì... Now... Sì... Aggiungo qui Iniziamo Camo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo se riesco a farvi sentire anche un po' di liquid sounds. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' veramente bellissimo. Mi sa che lotterò per un altro video. Ho come quest'impressione. Veramente è magico. Mi sono anche reso conto che potrei anche farvi sentire un altro trigger. Anche se in realtà non è proprio dei miei preferiti. Però vediamo se riesco senza fare troppo casino. Ecco. Anche se iniziare. Anche se iniziare. Ecco si trattava semplicemente di un po' di spritzing. E questo era il prossimo trigger. Lo state già sentendo. Avete indovinato? E usarà un po' di fritzing. con questa lattina. Sentite che roba. Mentre so�ute. Sono ecco! È solo... ... 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